Riviera Berica, presa di mira dai ladri, razziati in tre ore e quattro abitazioni, indagano i carabinieri. La razzia scatta alle 18, presa di mira un'abitazione a Nanto, dove i malintenzionati forzano una porta a finestra ed entrano in casa, rubando monigli in oro. Il bottino però evidentemente non è stato soddisfacente e i ladri si spostano a Monte Galdella, dove però non riescono nel loro intento, perché probabilmente disturbati dai vicini, ma non si demoralizzano ed anzi continuano la loro ride colpendo un'abitazione a Longare, dove portano via due braccialetti d'oro e 300 euro in contanti. Da Longare arrivano a Castegnero e sono le 20, dove ad essere colpite sono due abitazioni non molto distanti l'una dall'altra. Nella prima rubano ancora monigli in oro, mentre il bottino nella seconda è più cospicuo. Se ne vanno con la rastragliera blindata per armi, con all'interno due fucile e una carabina Benelli semiautomatica, del valore di oltre 1000 euro. Grazie a tutti.